Il sindaco di Moia della Civitella, Antonio Gnarra, è stato convocato dal prefetto di Salerno. Dal mese di febbraio del 2013, i lavoratori addetti alla raccolta rifiuti nel comune cilentano non percepiscono lo stipendio. Dunque, da oltre un anno e mezzo, gli operai lavorano senza soldi. Per il 23 luglio è previsto l'incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali. Alla riunione sono stati invitati, oltre al sindaco Gnarra, anche il commissario del Corisa 4, Domenico del Gaudio, il presidente della Iele, Marcello Ametrano. Come ricorda Angelo Morinelli, segretario provinciale Cisa L'Ambiente, in tanti altri comuni cilentani i lavoratori minacciano di incrociare le braccia poiché da mesi non percepiscono lo stipendio. L'ultimo caso a Monte Corici, dopo gli operai della Iele, non si sono presentati al lavoro, colti tutti da improvviso malore. Intanto, dalle organizzazioni sindacali arriva un'altra denuncia. La Iele continua ad effettuare assunzioni di tipo parentale ai vertici dell'amministrazione, mentre i dipendenti del Corisa 4 sono posti in disponibilità e poi, illegittimamente, vengono presentate lettere di licenziamento. Questa assurda situazione costituisce un grave danno irariale, oltre a raddoppiare i costi del servizio sul cittadino cilentano. Dopo l'incontro svoltosi due giorni fa in provincia, le organizzazioni sindacali Flaica Cube e Sindacato Azzurro, unitariamente ai confederali, hanno richiesto per l'ennesima volta la revoca dell'incarico del commissario liquidatore del Gaudio. Ma ancora una volta il presidente della provincia di Salerno, Antonio Iannone, non era presente al fianco dell'assessore Adriano Bellacosa per mostrare senso del dovere e responsabilità nei confronti di tanti padri e madri di famiglie del territorio cilentano. Dopo mesi di agonia per questi lavoratori, si aspettava un atto definitivo ed immediato da parte dell'istituzione della politica della provincia di Salerno, ovvero la revoca del commissario liquidatore del Gaudio. Invece, ancora tutto rimandato e le famiglie dei lavoratori rimangono nell'incertezza più assoluta e nella disperazione più acuta alla ricerca di una dignità umana perduta e di un lavoro che è stato scippato senza scrupoli e moralità.